La stagione 2024-2025 del Teatro degli Illuminati a Città di Castello, organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbra in collaborazione con l'amministrazione comunale, prenderà il via con il debutto in prima nazionale di Il Fumati a Pascal di Luigi Pirandello, in programma per mercoledì 6 e giovedì 7 novembre alle 20.45. Geppi Gleieses, diretto da Marco Tullio Giordana, è l'interprete di uno dei personaggi più iconici della letteratura pirandelliana. Il Fumati a Pascal è un grandissimo romanzo di Pirandello, che stranamente lui non ha pensato di scrivere questo testo come testo teatrale, ma è proprio un romanzo. Quindi il nostro è un adattamento, mio e di Geppi Gleieses, che è l'attore principale, il capo comico di questa compagnia che allestisce lo spettacolo. L'idea è di trasformare quindi un testo che è scritto in prima persona, proprio dal protagonista, Fumati a Pascal, di dividerlo in dialoghi per tanti personaggi. Questo è stato un po' il nostro lavoro. È un testo fondamentale del Novecento perché si può dire che sia il romanzo che mette in scena un tema che sarà centrale per tutto il secolo, cioè quello del doppio, dello sdoppiamento, dell'alterità. Per questo ci è sembrato un testo molto contemporaneo, molto moderno. Con Gleieses sul palco, un cast eccezionale composto da 11 attori, Marilu Prati, Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Valeria Contadino, Ciro Capano, Totò Onnis, Francesco Cordella, Teo Guarini, Davide Montalbano e Francesca Iasi. Un bello spettacolo, dovete aspettarvi. Si deve aspettare il pubblico di Città di Castello. Un grande spettacolo perché oggi lei ha detto, una compagnia con 11 attori, sei tecnici, sono compagnie che si vedono molto raramente oggi, in cui si tende al monologo che magari ti fa guadagnare un po' di soldi, magari senza scene, magari senza costumi. Qui invece sono tantissimi costumi, tanti cambi, scene, proiezioni, un spettacolo molto affascinante. Con una grande regia, Marco Tullio Giordana, se non fosse così un adattamento teatrale del fumatio a Pasquale non si potrebbe fare. C'è anche chi lo sta facendo ora come monologo, però è un'altra cosa.